All'interno della chiesa di San Luca, ancora oggi giù spatronato delle famiglie Spinola e Grimaldi, si trova una tela di grande importanza per qualità pittorica e iconografia, realizzata dal pittore genovese Giovanni Benedetto Castiglione, detto il grechetto. L'opera, che raffigura l'adorazione dei pastori, viene spesso chiamata con il nome di Natività Mistica per le particolari scelte pittoriche operate dal grechetto. La Madonna, infatti, stringe tra le braccia il figlio da cui si irradia una luce divina che illumina il dipinto, mentre in alto un gruppo di angeli in volo, invece di intonare il tradizionale Gloria in Excelsis, incensa con il turibolo Gesù Bambino, come se prefigurasse il sacrificio a cui è destinato. È proprio il pittore genovese ad utilizzare per primo questa particolare iconografia. In basso a destra, invece, grechetto inserisce un pastore dalle fattezze satiresche, che porta una corona di alloro sul capo, volendo forse simboleggiare in questa figura di limite la conciliazione tra il mondo pagano e quello cristiano al momento della nascita di Gesù Cristo. Sempre nella porzione inferiore del dipinto si esplicita poi la forza creatrice del pennello di grechetto. Il pelo del cane in primo piano, le piume del germano reale, la paglia e il terreno sono elementi di natura finti con abilità estrema e che emergono a mettere in relazione lo spazio illusorio del dipinto con quello reale dello spettatore. Firmata dal pittore e datata al 1645 su un frammento architettonico in basso a sinistra, quest'opera di altissimo pregio appartiene alla produzione matura del Castiglione, che già giovanissimo si era recato a Roma, dove recepì i modelli della pittura dei grandi artisti del periodo barocco, da Caravaggio a Pietro da Cortona. La fama del dipinto fu immediata nell'ambiente genovese e durò molto a lungo. L'adorazione dei pastori del grechetto infatti fu meta quasi obbligatoria per i connoisseurs stranieri in visita alla superba sino al XIX secolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.